Chiunque può passare di qua può tranquillamente approfittare di quelle che sono i frutti di queste piantine, che sono poche ma un contorno ci si fa volentieri insomma. Chi passa può servirsi gratuitamente, l'importante è che le verdure non vadano sprecate. È a Santa Firmina, frazione alle porte della città, il primo orto condiviso di Arezzo. Ecco, le regole sono semplici, è importante non sprecare, quindi non prendere tanto per avere, ma usarlo appunto perché serve e poi stare attenti alla pianta, quindi a non romperla. L'idea è nata dalla passione per l'orto di Emanuela Serboli e la sua famiglia, nata durante la pandemia. È fondamentale, specialmente in questo periodo storico, riscoprire il territorio, valorizzare i piccoli produttori locali e questo noi ce lo siamo dati come obiettivo. È bellissimo piantare un seme, vedere la pianta che cresce e poi il frutto, mangiarlo e sapere che è genuino, che è assolutamente a chilometro zero, anzi a metro zero. Il piccolo fazzoletto di terra di fronte alla sua abitazione non è la sola iniziativa di questa giovane coppia che con amore, dedizione e condivisione porta avanti altri progetti. Abbiamo creato il progetto Arezzo chilometro zero, con il quale attraverso dei trekking semplici, adatta a tutti, facciamo scoprire il territorio, tutte le vallate aretine e sempre accompagnate da una degustazione da piccoli produttori locali e quindi piccole realtà che anche quelle aiutiamo a scoprire perché sono veramente il gioiello del nostro territorio. Tutto questo, ci dicevi, non è il vostro mestiere principale. No, noi facciamo un lavoro normale, quindi da ufficio tutti i giorni, cinque giorni a settimana per le nostre 40 ore settimanali classiche, quindi sì, assolutamente. Poi tutto quello che è extra ce lo reinventiamo nel tempo libero, che ci ritagliamo perché è importante secondo noi avere passioni, progetti da coltivare.